Al suono della campanella questa mattina in tanti hanno fatto ritorno a scuola a seguito del pronunciamento del Tercalabria che ha accolto nei giorni scorsi il ricorso presentato da alcuni genitori contro l'ordinanza della Regione che aveva deciso di mantenere ancora a casa i bimbi dell'infanzia, delle primarie, delle medie. Crotone, popoloso quartiere Tufolo, questo è l'istituto comprensivo Maria Grazia Cuturi. Come documentano le immagini c'è stata un'ampia affluenza per tornare nelle aule. Ci siamo sempre attenuti dal primo momento al rispetto delle regole, quindi i bambini sanno perfettamente che è obbligatorio l'osservanza scrupolosa di questo regolamento. Stiamo lavorando senza sosta come personale scolastico grazie alla collaborazione di tutte le famiglie per questa ripresa anche perché quest'anno scolastico ce ne sono state tante di ripartenze, di sospensione. Io esprimo un po' il mio disappunto in merito proprio a questo teatrino però l'importante, il mio augurio è che tutto venga fatto solo ed esclusivamente per il bene dei bambini. Molti bimbi hanno raggiunto la scuola con gli scuola bus, tanti altri accompagnati dai genitori. Pareri discordanti per il ritorno in aula ma su una cosa tutti sono d'accordo. Occorre garantire la massima sicurezza nelle istituzioni didattiche ai bambini. Sì è bello riprendere ma sarebbe bene riprendere sicuramente in sicurezza ecco, quella è la prospettiva di noi genitori. Sì finalmente, finalmente siamo contenti tornati a scuola. Sì si torna a scuola, per il loro bene si deve fare. Stare a casa con questi bambini tutto questo tempo, psicologicamente, cosa succederà un domani dopo tutti questi mesi che i bambini stanno a casa, come i bambini e come gli anziani, non se ne parla più, si è perso un po' il senso e la connessione della vita. Quindi io sono molto contento che si ritorna. I bambini a casa, insomma, come impegnavano il tempo? Un po' giocando, un po' studiando, però non è come ritornare a scuola. È importante, però l'importante è farlo con sicurezza. Questo è l'importante per i bambini, per noi genitori e comunque per i nostri anziani che sono a casa. Si poteva continuare con la DAD, visto che i bambini si erano abituati. È importante andare a scuola, è importantissimo, sono la prima a dirlo, per socializzare i bambini, per evitare troppi stress, ma questo non era il periodo, anche visto le temperature, visto che devono stare con le finestre aperte, non mi sembrava il caso.